Il mio libro lo consiglio soprattutto alle persone non narcisiste, in modo che loro possano capirne qualcosa di più di noi narcisisti, farsi un'idea di che cos'è veramente il disturbo narcisistico di personalità, al di là di quello che dicono e sparano i fuffaguru su tutta internet. Quindi ve lo consiglio proprio per comprendere di più questo disturbo, quindi mi raccomando se non l'avete comprato, compratelo. Grazie.